Benvenuti su FatsFeed. Allora, Mr. Food. Prego, mi chiami Pig. Posso toccare la zampa? Allora, quale sarà la prima cosa che farà una volta tornato a Jude? Beh, mi metterò a ballare e mi prenderò la mia rivincita sul preside. Ma c'è solo una cosa che amo di più della disco music. È fare shopping al maialini si nasce di Nicky! La nostra intervista è un successo. FatsFeed sta andando alla grande. Che ti avevo detto? E il maialino piace, sorella di Nicky! Ragazzi, c'è la nostra giornalista preferita. Sì! È proprio vero che il Pigfoot sta tornando per vendicarsi del preside? Quando chiede un panino con pancetta e pomodoro, dice un me con il pomodoro. Non preoccupatevi, risponderemo a tutte le domande. Continuate a seguire FatsFeed. Aspetta, ma tu come hai fatto a trovarlo? Un vero giornalista non rivela a nessuno i suoi segreti. Avrai successo da grande. Senti, vero giornalista. Un vero giornalista veste il suo fratello da maiale e inventa un mucchio di stupidaggini. Beh, e tu sai che cosa c'è di meglio della verità? Bel lavoro, Don. Questo! Pensa che non so nemmeno chi sia. Nemmeno io ti riconosco più. Credo. Allora. Grazie a tutti.